Settimana di Santa Lucia 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 Non l'hai Settimana di Santa Lucia 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 Settimana Settimana di Santa Lucia 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 Fausto Tenka. Domenica 15, Discio e balli di gruppo, dalle 15.30 alle 20.30. Dancing Pica. Lo trovate in via Salisburgo 10, in Zai, a Verona. Per info, 347-822-8414. Si balla martedì, giovedì e domenica, dalle ore 20. Martedì 10, Gianni Day. Giovedì 12, Gianni DJ. Domenica 15, si balla con Isa. Circolo 7 Notte. Lo trovate in via Natta 18, a Settimo di Pescantina, a Verona o su www.circolosettenote.it. Per info, 348-084-5453. Sabato 14, si balla con Gino Deder. Dancing Small Cerea, a Verona. 0442-30134 o 349-157-5361. Ogni giovedì, ingresso libero con DJ Dani. Ogni venerdì, serata Latina Caribe. Sabato 14, si balla con l'orchestra di Enzo Allegri. Domenica 15, grande serata con il Serinfesta Tour. Grande serata, domenica 15 dicembre, allo Small di Cerea. Serinfesta presenta Serata Ballo con ospiti. Saranno con noi Melita, Gabris, Musica Viva, Frank David, Cristina Rocca, Ipotesi Band. Conduce Serena Carletti. E ci saranno anche le nostre telecamere. Non mancare. Per info, 349-157-5361. Il gruppo Noi Donne di Villimpenta organizza martedì 10 dicembre, presso la Sala Polivalente di Villimpenta, serata danzante con l'orchestra Marianna Lanteri, con degustazione risotto alla Villimpentese. Per prenotare, telefonare allo 0376-667215. 2-3-5. Domenica 22 dicembre, alle ore 15 e in replica alle ore 19, presso il Teatro Filippini di Via Pallone a Verona, Carletti Spettacoli, con il patrocino del Comune di Verona, presenta Note di Natale, le più belle canzoni di Natale interpretate da piccole e grandi voci. Ballo, magia, ospite della trasmissione Iocanto, Thomas Bocchimpani. Parte del ricavato andrà in beneficenza. Per info e per notazioni posti, 339-566-7159. Carletti Spettacoli, Seri in Festa, Gruppo Alpini di Buonavicina, in collaborazione con il Comune di Bovolone, presentano Capodanno 2013, presso Palazzetto Lemuse a Bovolone. Cena con ballo con l'orchestra Micaele e Magnifici, a soli 35 euro. Ingresso solo ballo dopo le 24 a 10 euro. Angolo per bambini con baby menu e gonfiabile. Parte del ricavato andrà ai servizi sociali. Per info 337 46 3097 o 335 704 1874. Si balla su Pista d'Acciaio. L'ultima dedica di oggi. Ci richiedono un brano di Vivo per lei. Abbiamo scelto proprio Vivo per lei. E allora arriva Fabio con la sua band, tutta dedicata a Francesca di Verona. Vivo per lei. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come ma, mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esser ne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le e non è una musa che ci invita. Attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa, essere dolce e sensuale. A volte picchia in testa ma è un pugno che che non fa mai male. Vivo per lei. Vivo per lei lo so mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. È un dolore quando parte. Vivo per lei dentro io te. Con piacere estremo cresce. Vivo per lei nel vortice. attraverso la mia voce si espande e l'amore produce. Vivo per lei nient'altro e quanti altri incontrerò che come me hanno scritto in viso. io vivo per lei. Io vivo per lei. Io vivo per lei. Sopra un palco e contro un muro. io vivo per lei. Io vivo per lei. Vivo per lei al limite. Anche in un domani. Vivo per lei al magine. Ogni giorno la conquista. La protagonista sarà sempre lei. Vivo per lei perché oramai Io non ho altra via di uscita Perché la musica lo sai Davvero non l'ho mai tradita Vivo per lei perché mi dà Pause, notte e libertà Ci fosse un'altra vita La vivo, la vivo per lei Vivo per lei la musica Io vivo per lei Vivo per lei è unica Io vivo per lei Io vivo per lei Io vivo per lei Dalla vivo per lei band Auguri di buone feste! Anche per oggi il nostro spazio è terminato Ma voi continuate a scrivere le vostre dediche a serinfesta Chiocciolotmail.it Oppure telefonateci o mandateci degli sms Noi vi accontenteremo come sempre Ed ora ci prendiamo una piccola pausa Vado a trovare il cuoco matto perché tra poco arriva la ricetta del lunedì Tra poco! Eccoci qui dopo un po' di pause pubblicitarie Siamo pronti per la terza e ultima parte di Serinfesta Prima di andare in cucina ci ascoltiamo un bellissimo brano Lui è l'orchestra Comandini che ci presenta Il Drago e la Luna La 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 Con 30 anni di esperienza, Carletti Spettacoli si distingue per professionalità e serietà, dal piccolo al grande evento, musica, cabaret, personaggi televisivi. Siamo in grado di soddisfare ogni vostra richiesta. Vienici a trovare o contattaci su www.carlettispettacoli.it. Con noi è tutta un'altra musica. Non sai come stupire i tuoi ospiti o hai in mente una festa a sorpresa per il tuo bambino o nipote? Chiama subito il numero 339-5667-159. Il nostro staff d'animazione colorerà il tuo evento e la festa sarà indimenticabile. Vuoi aumentare la tua visibilità? Questo è lo spazio giusto dove ti potrai pubblicizzare. Ditte, comuni, proloco, negozi, teatri. Fatevi conoscere tramite Sere in Festa e la vostra attività sarà sempre sulla cresta dell'onda. Showroom Venturi, oggettistica, complementi d'arredo, lista nozze, bomboniere. Lo trovate in Via Madonna 180 a Bovolone, Verona. Mumblina, articoli per le feste, cake design, confettate. Lo trovate in Via Verona 24 a San Pietro di Legnago, Verona. 0442-75018 o su www.mumblina.it. Seguici anche su Facebook. Grande vendita promozionale a Lady Lacca Redamenti, in Via Fratelli Kennedy 1 a Opeano. Telefonate al numero 045-713-5462. Mese della cucina, sconti 65% sull'esposizione fino ad esaudimento scorte. Hai dai 6-18 anni e ti piace cantare? Carletti Spettacoli sta cercando proprio te. Sono aperte le selezioni per la quarta edizione del concorso Canoro Non ho l'età. Contattaci al numero 337-463097 o scrivici su www.carlettispettacoli.it Benvenuti nell'angolo della cucina del lunedì. Un benvenuto anche nel nostro cuoco matto. Ciao Giorgio. Ciao Serena. Se continuo con le ricette natalizie, allora siamo pronti per presentarvi i maccheroncini gratinati. Una ricetta economica per 4 persone solo 14 euro. E allora prendete carta e penna che vi dico tutti gli ingredienti che servono. Si parte con 400 g di salsiccia, 250 g di passata di pomodoro, 250 g di formaggio Emmental, grana grattugiato, pane grattugiato, origano, sale, pepe, olio, bicchiere di vino bianco, burro e infine 400 g di maccheroncini. Avete scritto tutto? E allora mi raccomando, partiamo subito con il procedimento. Abbiamo preso una grande pentola, in questo caso la porzione è un po' più abbondante, ma in questa pentola prepariamo il nostro sugo. Partiamo proprio dalla salsiccia. L'hai un po' rotta, vero Giorgio, la salsiccia? Sì, l'avevamo un po' sgrumola, amiche di io, ti senti a letto, sgrumola, che vuol dire rotta a pezzettini, perché la salsiccia e anche il tasto sale, è un po' fatica che si sgranula bene. Allora bisogna sgranularlo con le mani o con la forchetta, insomma. Bene, aiutatevi pure con la forchetta tranquillamente e aggiungiamo la nostra passata di pomodoro, un po' di sale, un po' di origano, il nostro olio, un po' di burro, il pepe e il nostro bicchiere di vino bianco. Lasciamo circa cuocere circa 15 minuti, giusto Giorgio? Sì, perché la salsiccia e anche il tasto sale non va cotta tanto. Bene. 10 minuti, un quarto d'ora. Massimo 10 minuti, un quarto d'ora. Nel frattempo mettiamo a bollire la nostra pasta, ovvero questi maccheroncini rigati, diciamo, e la cottura ottimale, insomma, circa 8 minuti più o meno. No, il maccheroncino anche 10. Anche 10 minuti, dunque lasciamo il cuocere per bene. Infine spadelliamo il tutto in questa grande pentola e per la grattinatura mettiamo il nostro emmental, il nostro pan grattato e il formaggio grana. Il tutto in forno a 180 gradi, per quanti minuti? Per un quarto d'ora, un quarto d'ora, 10 minuti, però ti fai un'osservazione. Il emmental deve essere tagliato tutto julien, cioè non a pezzi interi, come il formaggio grattugiato, se avete una grattugia non so. Certo, tutto quanto allora julien sia il emmental che il grana, il parmigiano reggiano, il grana appunto. Benissimo, tutto quanto in forno appunto per aggiungere questa doratura, questa crosticina fatta con il formaggio e il nostro piatto è già finito. Sì, tutto a posto. E allora il nostro cuoco Giorgio vi saluta. Ciao a tutti dal vostro cuoco Mato Giorgio, ciao e un grosso bacione. Grazie al nostro cuoco Mato Giorgio che ritroviamo lunedì con le ricette del Natale e noi continuiamo con le nostre grandi orchestre. È il momento di presentarvi l'orchestra Vicenzi con il musicista. Sulle notte della vita sua, il musicista ti regalerà, storie ed altri tempi, qualche sogno e poi chissà. Ma niente in cambio e lui ti chiede proprio mai. Nel labirinto del suo sentimento lui tutto il suo amore offrirà. La sua fisarmonica darà La sua fisarmonica darà Una sensazione unica Musica e parole vanno in tutte le città Armonia intensa si diffonderà Notte dal cuore Ruggiada al sole La musica è solo poesia E nelle sue dita una carezza nascerà Ogni suo pensiero dentro te arriverà E si prova amore E poi l'amore tuo sarà Questa è la sua magia La sua fisarmonica darà La sua fisarmonica darà Una sensazione unica Musica e parole vanno in tutte le città Armonia intensa si diffonderà Notte dal cuore Ruggiada al sole La musica è solo poesia Il nostro lunedì insieme è terminato L'appuntamento è per domani mattina Sempre qui su Telearena Alle 10.14 Vi aspetto sempre così numerosi Ci salutiamo con l'ultimo brano di oggi Lei è Melita Leone Che avremo un nostro ospite Allo Smodi Cerea Proprio questa domenica 15 dicembre E ci presenta oggi Mercante di Sogni Ci vediamo domani E mi sento il mondo mancare Sotto i piedi la terra a tremare I miei sensi che cercano ancora La tua pelle bagnata di luna Quelle mani tremanti nel buio Che ogni strada sapevano trovare Chiudo gli occhi e mi metto a sognare Le tue labbra che ormai non ho più Mercante di Sogni Mercante d'amore Tu vendi illusioni A questo mio cuore Che piange per te Mercante di Sogni Per te tutto è un gioco Però io mi brucio Vicino al tuo fuoco Che non scalda più Mercante di Sogni Mercante di niente Tu mi hai preso tutto Il corpo e la mente Ma vivo per te Mercante di Sogni Mercante di Sogni Mercante di niente Tu mi hai preso tutto Tu mi hai preso tutto Il corpo e la mente Ma vivo per te Quelle mani tremanti nel buio Che ogni strada sapevano trovare Chiudo gli occhi e mi metto a sognare Le tue labbra che ormai non ho più Chiudo gli occhi e la mente E le tue labbra che ormai non ho più Io mi hai preso tutto Che ogni strada sapevano troppo Mi hai preso tutto Che ogni strada sapevano controllo Mi hai preso tutto Che ogni strada sapevano troppo Che ogni strada sapevano troppo